da parte degli uffici scolastici regionali. Se questi sono gli uffici preposti al controllo delle scuole e dei dirigenti, figuriamoci cosa potranno fare, cosa potrà accadere con l'impianto che è previsto nel disegno di legge della buona scuola. Se lo stesso Ministero, gli stessi uffici periferici non intervengono di fronte alle evidenze, figuriamoci se potranno mai controllare quello che faranno i dirigenti con chiamata diretta, e con tutte le armi che si danno ai dirigenti con questo provvedimento. Quindi ribadiamo la nostra totale insoddisfazione di questa risposta e siamo fortemente preoccupati di quello che sta accadendo e di quello che state combinando nei confronti del mondo della scuola. La ringrazio. È così saurito lo svolgimento dell'interpellanza e dell'interrogazione dell'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta che le prenderà alle ore 15 con il seguito della discussione della proposta di legge regante modifica la legge 8 febbraio 48 numero 47 al codice di procedura penale, al codice di procedura civile, al codice civile in materia di diffamazione, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, ulteriore disposizione a tutela del soggetto diffamato. La seduta è sospesa. Grazie. Grazie. Grazie.